Nuovo acquisto in casa a Battipagliese. I bianconeri hanno infatti comunicato il tesseramento di Angelo Trisolini, attaccante esterno classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Taranto fino alla Beretti, prima di passare al Lago Negro. Sono molto felice di entrare a far parte di questa squadra, dichiarato al momento della firma, e farò di tutto per onorare la maglia.